Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro J-Live, una trasmissione ricca di ospiti, anche di notizie, di attualità. Intanto vi presento subito il titolare di questo spazio di oggi iniziale, Simone Gambacorta, critico letterario che ogni tanto viene a trovarci. Grazie, ciao, sempre volentieri. Ciao Simone, è un piacere per me e per noi. Allora, tra poco Simone ovviamente ci darà qualche consiglio di lettura, parleremo di libri e non solo. Però, se permetti Simone, facciamo l'aggiornamento sul coronavirus. Sono appena arrivati i dati dalla regione, vedete qui dal nostro sito superj.it, coronavirus 61 nuovi casi in Abruzzo, 4 in provincia di Teramo e un decesso in Abruzzo. Sono 4 in provincia di Teramo. Vi leggo l'attacco del pezzo. Sono complessivamente 4.715 i casi positivi al covid registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Questo è il totale. Rispetto a ieri si registrano 61 nuovi casi, e non sono pochi, di età compresa tra i 2 e i 90 anni. I minorenni sono 3, di cui 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell'Aquila. Sono stati fatti parecchi tamponi, adesso lo vado a trovare il dato. Intanto il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale purtroppo a 485, e l'ultimo deceduto è un 88enne della provincia dell'Aquila. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1098 più 40 rispetto a ieri, perché poi si fa il calcolo, si sottrae al totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti. Allora, 88 pazienti più 7 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 6 invece, il dato è invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia intensiva. Questo è il dato abruzzese. Mentre gli altri 1.400 sono in isolamento domiciliare. Allora, del totale dei positivi, 708 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila che fa registrare un più 32 rispetto a ieri, più 32 casi. 1.118 in provincia di Chieti, più 12. 1.976 in provincia di Pescara, più 12. 868 dall'inizio dell'emergenza, i casi registrati in provincia di Teramo, più 4 rispetto a ieri. Ecco, i tamponi eseguiti sono stati 2.507 rispetto a ieri. Il totale dei positivi oggi, quindi l'abbiamo detto, 61. Sono numeri per cui, lo ripetiamo sempre, quando c'è Simone, non sono pochi e bisogna stare attenti sempre. Adesso arriverà anche la misura nazionale del governo di portare la mascherina anche all'esterno. Eccola qui, sì. Lo abbiamo con noi. E quindi dobbiamo rispettare quello, insomma, mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani, insomma. Lavarsi il più spesso e igienizzarle con i prodotti che tutti conosciamo. Simone, allora. Come stai? Io sto abbastanza bene, tu? Comunque, niente, qui la situazione inizia a essere un po'... Torna ad essere un po' preoccupante. Comunque, no, tutto bene. Tutto bene. Mi sembra che ci siamo visti. Ci siamo visti in settimana perché per il premio di Venanzo siamo stati insieme alla presentazione del libro Tutti i racconti del compianto scrittore e grande scrittore italiano Luigi Malerba. C'è stato un bel convegno a cui ha preso parte come relatore Simone Gambacorte e altri studiosi. È stato bello. All'ipogeo con la signora... Onore al premio di Venanzo che ha accettato di realizzare e ha fatto in modo che si potesse realizzare questo incontro, questa tavola rotonda. Era nato dal tuo articolo, lo ricordo ancora, sul rapporto tra Malerba e Di Venanzo perché nell'unico film fatto da Malerba come regista, lui era uno scrittore e sceneggiatore, in quel film regista Malerba si avvalse della sapienza del direttore della fotografia di Gianni Di Venanzo. Si intitola Donne e Soldati, questo film che uscì nel 54, girato da Luigi Malerba, scrittore e sceneggiatore, in quel caso, unico caso, regista con Antonio Marchi, direttore della fotografia, addirittura Gianni Di Venanzo. Il 54 è un anno significativo per Teramo perché anche l'anno in cui esce L'uccello nella cupola è il primo romanzo di Mario Pomiglio ambientato a Teramo. Quindi c'è questa biforcazione dei destini Teramani nella scena cinematografica e letteraria nazionale. Ma il rapporto tra Di Venanzo e Malerba, che è stato un grandissimo scrittore, appunto come ricordavi tu, è scomparso nel 2008, scrittore di romanzi e racconti, ha dato come frutto questo bellissimo film appena restaurato dalla Cineteca di Bologna. Donne e Soldati è un film di ambientazione medievale. Il Medioevo è una delle materie privilegiate per Malerba ed è stato riconosciuto da Mario Monicelli e da Age Scarpelli, che furono gli sceneggiatori dell'Armata Brancaleone, che Donne e Soldati è stato in qualche modo un'anticipazione, un modello a cui loro si sono. Quello che ha fatto venire in mente a loro l'Armata Brancaleone. O ha contribuito a definire l'idea. Quindi non stiamo parlando di un prodottino così uscito fuori per sbaglio, ma stiamo parlando di qualcosa che ci dà veramente la dimensione e di Di Venanzo e di Malerba, laddove ce ne fosse bisogno. E soprattutto, così, mette anche Teramo un po' al centro di un dibattito che in fondo la vede e deve vederla più consapevole di quanto ancora non sia stata. E concludo dicendo che cosa abbiamo presentato sabato? Abbiamo presentato il Tometto, dico Tometto perché è un bel volume. È un bel mattoncino, sì. Tutti i racconti. Malerba ha scritto tanti romanzi bellissimi e tanti racconti. È stato uno scrittore che è stato straordinario nell'uno e nell'altro ambito. Le storie brevi sono uno dei suoi territori di caccia, per così dire, preferiti, quelli dove va meglio, dove fa più rovesciate, più gol, più capriole, ma le fa ovunque. E sono venuti chi? Sono venuti Anna Malerba, che appunto era abruzzese, tra l'altro, ma è la moglie dello scrittore. Gino Ruozzi, che è il curatore, il professore di letteratura italiana a Bologna, curatore del libro. Lucilla Sergiacomo, che è una storica della letteratura italiana di Pescara, legatissima a Teramo. E Andrea Gialloreto, anche lui professore all'Università di Chieti Pescara, che è uno professore che ha dato moltissime tesi su Malerba e che ha studiato molto Malerba. Da questa tavola rotonda, che ha visto appunto il nostro Rino alla moderazione, lo scambiarsi e l'avvicendarsi di pareri e di opinioni, è venuto fuori un bel ritratto. Un bel pomeriggio su questo scrittore. Un bellissimo ritratto, tra l'altro molto gradevole proprio nell'esposizione di tutti voi. E' filato liscio. Merito degli ospiti illustri che ci sono stati. Di tutti quanti. Una cosa che ci tenevo a dire, quando Simone pone l'accento sull'importanza di Gianni Di Venanzo, comunque di chi ha fatto cultura o comunque ha lavorato, nel caso specifico, nel mondo del cinema. E' che magari noi abbiamo dimenticato, nel caso specifico, Teramo Nostra l'ha riportato, ricacciandolo dall'oblio in cui era accaduto. Perché purtroppo Gianni Di Venanzo è morto da appena 45 anni, dopo aver fatto capolavori come 8,5 di Fellini o come Salvatore Giuliano di Francesco Rossi. Però l'avevamo dimenticato tutti noi. Da 25 anni lo ricorda Teramo Nostra. E ricordo io invece che l'anno scorso arrivò da Hollywood, perché abita a Beverly Hills, John Bailey, che fino all'agosto precedente era stato presidente dell'Academy Awards e che è quella che assegna i premi Oscar. E' venuto quindi da Beverly Hills a ritirare il premio per lui alla memoria, perché è un direttore della fotografia, John Bailey, perché questo premio è intitolato Gianni Di Venanzo. Lui è venuto quasi esclusivamente per quello. Dice, ah beh, se è intitolato Gianni Venanzo è un premio che vale la pena prendere. Esattamente, ed è il pensiero che hanno peraltro tanti. Io non sapevo, me l'ha detto Anna Malerba, che tra il di Venanzo e Malerba appunto poi nacque anche un rapporto, non dico un'amicizia, ma insomma un rapporto che ha avuto il suo senso, la sua continuità e i suoi sedimenti. Tutte queste cose ci aiutano a vivere anche la dimensione culturale della nostra città, proiettandola però in un orizzonte che non è sempre quello locale chiuso del diciamo e ripetiamo sempre le solite cose, ma anche del capiamo cose nuove che altrimenti ci sfuggirebbero. Ecco, per esempio, Di Venanzo è uno di quei nomi che vanno riconosciuti e conosciuti per chi non li conosce, ma soprattutto perché sono affascinantissime queste connessioni così importanti e così interessanti. Al di là di Teramo è una celebrità. A Teramo ne siamo consapevoli grazie al premio della fotografia che porta il suo nome, ma fuori Teramo è una celebrità. Faccio un esempio che ho vissuto in prima persona. Prima di presentare questo libro di Malerba, qualche mese fa ne presentammo un altro, sempre con Anna La Penna. Sono tre volte che parliamo di Malerba a Teramo, evidentemente non a caso. Abbiamo presentato Il diario di un sognatore, un libro di cui abbiamo parlato anche qui, pubblicato da Mondadori, negli Oscar Mondadori, dove Malerba notò per un paio di anni i suoi sogni. Sì, l'ho preso io quei libri. Quel giorno, quella volta la presentazione che si tenne da tempo libero nella libreria di Cristian Simonella, la signora Malerba fu accompagnata da Guido Barlozzetti, il conduttore di Uno Mattina. Sì, molto famoso. Il quale è un esperto di cinema, come tutti noi sappiamo, e quando sentì parlare durante la serata di Gianni Di Venanzo si accese di entusiasmo e snocciolò tutti i film che aveva fatto Gianni Di Venanzo, rimasi a bocca aperta. Un cinefilo li sa, ma devi essere veramente un fuoriclasse se quale direttore della fotografia ottieni tutta questa notorietà, perché il ruolo di direttore della fotografia, al di là di Storaro, è sempre un ruolo comunque un po' marginale. Hai fatto un bel nome, Storaro, quando venne a ritirare il premio alla carriera a Teramo, la sua sciarpa bianca, lo ricordo, è quasi sciamanico, Storaro ha anche un modo di parlare molto affascinante, lo definì suo maestro. E questo è un po' il profilo di Di Venanzo. Apriamo gli occhietti, ecco, su questo è stato bello parlare di Malerba, è venuta anche Giovanna Bonardi, che è la figlia, perché il vero nome di Luigi Malerba era Luigi Bonardi. Oh, non dimentichiamoci che il rapporto con l'abruzzo di Malerba, al di là degli aspetti familiari che comunque hanno il loro peso, passa anche per un signore che si chiama Ennio Flaiano. E qui torniamo a Fellini, torniamo al cinema e via dicendo, perché Malerba esordisce pubblicando il suo primo libro di racconti, cioè La scoperta dell'alfabeto, che sono riuniti, questa raccolta è riunita nel libro che abbiamo presentato, proprio grazie a, non alla segnalazione perché ce l'avrebbe fatta, ma comunque a una interlocuzione con Flaiano. Certo. Allora, Simone, vedo dei libri davanti a te. Ci sono casualmente dei libri, parlavamo di cinema, allora c'è un anniversario importante, ho con me tre libri, sono tre libri importanti, oggi facciamo, ci soffermiamo su qualche ricorrenza, ma lo facciamo in maniera abbastanza rapida. Rapida, poi so, come viene lì, so perché ho detto rapida, non era necessario che dicessi rapida, forse sei tu che mi solleciti, hai un senso di... Siamo alle sedici, noi da sedici meno un minuto siamo qua. Scusate, mi frainteso la gestualità, ma comunque al di là di questo, vent'anni fa è morto un grande poeta italiano, un nome importantissimo per se stesso ma anche per la sua discendenza, esatto, cioè Attilio Bertolucci. Attilio Bertolucci è stato appunto un grande poeta ed ha messo al mondo, insieme con sua moglie, due figli che sono stati Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Bernardo Bertolucci, Novecento, insomma due registi, due grandi registi diversi, con esiti anche entrambi importanti, ma anche differenti come è successo. È chiaro che Novecento è uno di quei film indimenticabili. C'è l'ultimo tango, insomma, ne ha fatti. Per citare quelli più famosi, che veramente la lista potrebbe andare avanti all'infinito, o comunque non all'infinito, ma per una filmografia bella ricca, Attilio Bertolucci è un poeta importante, già dal 29, se non sbaglio, esordisce con Sirio la sua prima raccolta, subito si capisce che è sceso in campo, o anche qui, un fuoriclasse. Poi, vabbè, diventa quello che diventa, un grande poeta, negli anni Ottanta pubblica un romanzo in versi, che si intitola La Camera da Letto, eccolo qui, è stato adesso ripubblicato. Un romanzo in versi. Mi sono dimenticato a trovare le immagini. No, vabbè, però così funziona. Andiamo a mano. Un romanzo in versi, si intitola La Camera da Letto, eccolo qui, vedete, lo pubblica Garzanti. Questa è l'edizione Garzanti che è stata rifatta. Negli anni Ottanta, quando uscì questo libro, uscì in due volumi, nell'Ottantaquattro e nell'Ottantotto, uscì in due volumi, uno nell'Ottantaquattro e uno nell'Ottantaquattro. Adesso è stato ripubblicato in un volume unico. Cos'è? È un romanzo in versi, appunto. Vi faccio vedere cosa si intende per romanzo in versi. Si intende dei versi, è come una odissea ambientata tra la Maremma Toscana e l'Appennino e Parma. Ecco, vedete, ci sono proprio le pagine che scorrono così. Questi sono i miei segni, le mie sottolineature che non hanno particolare importanza. È un libro naturalmente estremamente bello. Perché? Per tante ragioni. Di cosa si racconta in questo romanzo in versi? Si racconta la storia di una famiglia, dagli antenati che in epoche lontane e oscure si muovono appunto dalla Maremma per arrivare nel Parmense, nell'area per poi stabilirsi a Parma, generazioni dopo, c'è tutta la storia di questa famiglia. Ed è un romanzo pieno all'inizio soprattutto di contaminazioni, di trapianti, di ibridazioni, perché ci si sposta, si cerca il luogo dove vivere, si cerca l'habitat migliore nel quale installarsi. Ed è in questo un romanzo in versi che riflette su se stesso, perché il modello fondativo è l'Oniegin di Puskin, inevitabilmente. E in questo caso c'è il tentativo di trapiantare un modello russo in una dimensione appenninica o subappenninica, ed è un tentativo che a Bertolucci riesce mirabilmente. Però, siccome Attilio Bertolucci, che vuoi buon sangue non mente, iniziò a muovere i primi passi come critico cinematografico, è stato pubblicato anni fa un volume a cura di Gabriella Pallibarone, di Pallibarone, diversi anni fa, che raccoglieva le sue recensioni cinematografiche. E leggendo questo romanzo in versi, leggendo la camera da letto, si ha proprio l'impressione di, in qualche modo, di assistere a un film. Una sorta di novecento, prefiglio pre-novecento, non sto dicendo che ci siano... Il pre-quello. In qualche modo, insomma, il gene è quello, il DNA è quello. E c'è questo sguardo che passa attraverso generazioni, attraverso situazioni, attraverso giorni, attraverso mesi. L'idea che se ne ha, io credo che l'immagine più esatta, più esatta per quello che posso dire io, che si può tirar fuori, a proposito della camera da letto di Attilio Bertolucci, è quella di un giardino. Perché un giardino? Perché questo è un romanzo in versi che racconta tanti anni, tanta vita. Lo racconta al modo Bertolucciano, quindi con tocchi lievi, con morbidezza, con atmosfere sempre molto abitate dalla luce. Torniamo, in qualche modo, a Gianni di Venanzo. C'è tanta luce in questo libro, che è anche l'ombra, però ce n'è tala. C'è tanto chiaro e tanto oscuro come nelle umane vicende, che vengono sempre guardate, lo ricorda anche nella bella prefazione Nicola Gardini, come se si fosse appunto degli spettatori. Cioè non c'è un perforare le vicende, c'è un osservarle, un guardarle. E c'è un'autobiografia diretta, perché sono stati utilizzati anche materiali di famiglia, per diari, fogli di appunti, per raccontare questa storia. Non storia, perché poi è un libro che va letto senza preoccuparsi di seguire una trama. Quello sarebbe un errore, sarebbe banale. Bisogna invece lasciarsi trasportare a vincere dall'affiorare, dal definirsi delle immagini che volta per volta, verso per verso, vengono fuori. Ma, dicevo, qual è l'immagine che potremmo tirare fuori per descrivere, in maniera anche così, magari un po' inesatta, ma giusto per averne l'idea, nel migliore dei modi, questo romanzo in versi? Io direi un giardino. Quando noi andiamo in un giardino vediamo due cose. Vediamo un aspetto, il tempo ci compare in due aspetti. L'aspetto orizzontale, perché cambiano le stagioni, quindi il giardino estivo è diverso dal giardino invernale. E poi c'è un aspetto, per così dire, orizzontale, più storico, tra virgolette, quello dato dall'accumulo del tempo. E quindi vediamo alberi più alti, alberi più giovani, piante differenti. Vediamo tante età, tante situazioni, tanti angoli, tanti scorci insieme. Ecco, il racconto che Bertolucci fa in questo suo romanzo in versi, di questa sua storia familiare, che poi è la storia di tutti, al di là del fatto degli aspetti specifici, perché il poeta è tale quando porta a un livello di universalità il proprio dire. Ecco, è proprio come un giardino, perché ci sono personaggi differenti, come piante differenti, con età differenti, con storie differenti, vite che terminano, come terminano quelle di alcuni fiori, e vite che cominciano, colori che cambiano, situazioni che si modificano. E questo è, insomma, un dato di fascino di questo libro. Siccome, appunto, è stato ripubblicato da Garzanti, in una edizione economica, ma mica tanto, però qui lo dobbiamo segnalare, perché sono 400 pagine, va bene, ma non si può fare neanche un tanto al chilo, e 18 euro per questa edizione economica, francamente... E aspettare un po' di meno per un'edizione economica. Mi aspettare un po' di meno, perché, insomma, c'è un discorso poi di effetti, di divulgazione, di lettura, insomma, va tenuto conto di questo. Lo acquisiamo? Lo acquisiamo agli atti, la camera da letto di Attilio Bertolucci, padre di due grandi figli e grande poeta gli stesso, splendidamente isolato, come è stato definito nel nostro panorama letterario, ma anche splendidamente capace di creare una influenza nei tanti che l'hanno amato, poeti di Officina, Pasolini e via dicendo. Lo acquisiamo agli atti. Che bello, acquisito Bertolucci la camera da letto. Per il ventennio della scomparsa. Allora, che altro ci proponi? Passiamo a un altro importante... 8 minuti ce l'abbiamo. Passiamo a un altro importante compleanno. Anche se in combo, non scusa, i risultati, oggi c'è un turno di campionato della Serie C, il termo non gioca, però in combo, i risultati dei primi tempi, poi gli diamo un'occhiata. Tu interrompimi quando vuoi. Il 3 ottobre scorso un grande scrittore italiano, Raffaele Lacapria, ha compiuto gli anni, ne ha compiuti 98. Auguri. Auguri carissimi. Di Raffaele Lacapria, noi abbiamo parlato anche in passato nella stagione, è uno dei grandi scrittori italiani di questi anni, sui capolavori, ferito a morte, una giornata di impazienza, anche lui grande scrittore di racconti. Cosa ha in comune con Bertolucci, di cui parlavamo prima? Forse nulla o forse tanto. Per esempio, la luce. Lui, che è lo scrittore della bella giornata, della Napoli, dei bagni, della Napoli, del mare, dell'azzurro del cielo, delle giornate assolate, è immerso in una luce pienamente mediterranea. La luce invece più autunnale, più settembrina, o anche estiva, di cui parla Bertolucci nel suo romanzo inversi, è una luce differente. Ma comunque c'è sempre luce in questi due scrittori. Ora, Lacapria ha pubblicato con Mondadori questo libro, il cui titolo è La vita salvata, ed è una lunga intervista, sono delle conversazioni con Giovanna Stanzione, che è colei che le ha raccolto queste conversazioni. Ecco, vedete, questo signore in foto è proprio lui, è proprio il grande Raffaele Lacapria, che in passato venne a Teramo anche per ritirare il premio Teramo alla carriera. Tra l'altro li lega anche il cinema, perché Attilio ha generato due registi, e lui era sposato con Ilaria Occhini, con la splendida Ilaria Occhini. Ma dirò di più, Lacapria era molto amico, è stato anche molto vicino a Francesco Rosi, che a sua volta è stato vicino a Divenanzo, quindi ecco, vediamo... Un altro grande napoletano, un altro grande napoletano, come si ricollega tutto e tutto si tiene. sono delle conversazioni raccontate molto bene da Giovanna Stanzione, che ha messo insieme in questo libro momenti di incontro, di confronto con questo signore, che è anche un... questo scrittore che è anche un gran signore, un gran gentleman, pieno di ironia, pieno di grazia, come ce lo descrive lei, ma anche sempre però abitato dal suo straordinario acume. Ci sono alcuni passaggi, io adesso mi ci soffermerei, per esempio c'è una parte bellissima sulle immagini madri, che cosa sono le immagini madri? Lacapria ne parla parlando della sua infanzia, di quando abitava nello storico, straordinario, mitico, Palazzo Donnanna, che è un palazzo realmente esistito, palazzo affacciato sul mare, lui chiamato dagli amici si tuffava, lui è stato un grande nuotatore nella vita, e si tuffava direttamente dal finestra in acqua, che spettacolo ragazzi! e raggiungeva gli amici, in questa napoletanità piena di vita, di amore piena di sole e piena appunto di luce. In quel palazzo, nelle immagini marine generate da quel palazzo, che sono il rumore dell'acqua, appunto la luce, i riflessi, è fondamentale, basta aver letto ferito a morte per capire quanto siano importanti queste immagini, si generano quelle che lui chiama le immagini madri, cioè quelle immagini che alimenteranno sempre la memoria immaginativa, così lo chiama giustamente la capria, di uno scrittore. Insomma, la miniera primigenia, dalla quale sempre si estrarranno suggestioni, stimoli, idee, anche ossessioni. E poi c'è una risposta che io trovo bellissima, data da questo grande scrittore, è una domanda che le fa, appunto, che gli fa Giovanna Stanzione, è questa. Perché ha smesso piuttosto presto come scrittore di scrivere romanzi, perché poi la capria si è dato appunto anche lui alla scrittura breve, e la risposta è perché non venivano più bene. Allora, questo sembra una battuta, in verità detta da un maestro, qual è la capria, apre un mondo, e la differenza tra il voler dire qualcosa a tutti i costi e l'aver qualcosa da dire, sono due aspetti diversi, c'è un senso di autocritica, di coscienza del proprio lavoro straordinario in queste parole. E sono parole che diventano ancora più preziosi, quanto più oggi si ragioni sul fatto di essere all'interno di una società, diciamo sempre, si legge poco, non si legge mai, ma è vero anche che, ecco lo palazzo, i libri vengono fuori accarrettati. Allora, quando c'è questo senso di autocorrezione, questo senso di auto-vigilanza verso se stessi e verso la letteratura, io credo che si sia di fronte a una grande esperienza. Grande esperienza è sicuramente quella di La Capria, che è un nome immenso, io lo dico anche forse così, con un pregiudizio felice, perché l'ho sempre amato come scrittore, mi è sempre piaciuto, ho ferito a morte con il discorso sulla grande occasione, la grande occasione mancata, che sono cose che capirono a tutti nella vita. È un libro per me indimenticabile, straordinariamente sperimentale, e insomma, questo libro di Giovanna Stanzioni, di Raffaele La Capria, io lo consiglio caldamente. Si può leggere, anche se non si ha nessun interesse per La Capria, perché è un bellissimo incontro fra due generazioni. Una bellissima intervista. Una bellissima serie di interviste, poi si alternano anche narrazioni che riguardano direttamente l'autrice, ma è proprio un incrociarsi di due sensibilità attorno al valore della parola e alla complessità e alla bellezza della parola. E quindi questo libro, Raffaele La Capria, La vita salvata, conversazioni con Giovanna Stanzioni, io lo raccomando caldamente, è pubblicato da Mondadori. Acquisito agli atti. Allora, vai, ultima proposta? Sì. In un paio di minuti? Abbiamo parlato, ce la facciamo, parliamo di Giuseppe Conte, adesso la classica specifica, Giuseppe Conte non è il premier, Giuseppe Conte è un grandissimo poeta italiano, io ho avuto il piacere, il privilegio di conoscerlo e di intervistarlo a Fara San Martino qualche anno fa, persona tra altre cose amabilissima, oltre che squisita, anche nelle sue, soprattutto nelle sue scritture. All'estero è celebratissimo, in Italia anche, ma all'estero naturalmente molto di più, è veramente un grande nome. E non di recentissimo, ma insomma di recente, ha pubblicato con Mondadori questo libro, Non finirò di scrivere sul mare. Siccome abbiamo parlato di luce, di mare, mi sembrava opportuno citare lui, Non finirò di scrivere sul mare, può sembrare una, può essere una, tanto una dichiarazione, Lo fermi così lo inquadro. Una dichiarazione di poetica, come per dire, continuerà il mare a essere uno dei miei temi, lo abbasso, eccolo qui, Giuseppe Conte, Non finirò di scrivere sul mare, ma può essere anche una metafora della vita di noi tutti. Noi tutti cerchiamo di scrivere una parola, che può essere il nostro nome, la nostra storia, sul mare degli accadimenti, sul mare di quello che ci succede. Un poeta come Baudelaire, in una poesia splendida, dei fiori del male, ha scritto più o meno questo, mare, nessun uomo, nessuno si azzarderebbe a sondare le tue profondità, e uomo, nessuno si azzarderebbe a entrare veramente nei tuoi segreti, nei tuoi silenzi. Ecco, questo significa che il rapporto tra l'uomo e il mare è un rapporto strettissimo, un rapporto primigenio, archetipico, fondativo. Giuseppe Conte riesce a mettere insieme delle poesie, con la grandezza che gli è propria, con la grandezza che lo ha reso il grande poeta che è, e non sto esagerando perché parlo sulla base anche di una bibliografia critica che è eloquente da sola, riesce a mettere insieme un libro che è fatto di poesie, che però è un poema, e che riesce realmente ad abitarti. Abitarti che significa? Che pone ciascuno di noi a confronto con quella grande, mutevole, infinita presenza, mai zitta, mai ferma, che è il mare. E lo fa con la parola alta, alata, lieve, fendente, forte, quello che vogliamo, di un poeta sul quale io posso soltanto dire questo, correte in libreria, e insieme ai libri di cui abbiamo parlato, fidatevi, leggete questa sua opera, non finirò di scrivere sul mare, Oscar, scusatemi, lo specchio Mondadori, perché non ve ne pentirete. È un libro di una bellezza, a mio avviso, commovente. E quindi lo acquisiamo. Grazie Simone, anche della passione che hai messo oggi nel presentare questi tre libri. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro primo spazio. Con Simone ci rivedremo, penso, presto. Speriamo, però poi rivederci. Soprattutto. Allora, grazie. Grazie a voi. Simone, alla prossima. Soprattutto di questi splendidi consigli di oggi. Noi andiamo in pubblicità e poi sarà il tempo di Marco Dioreto. Eh, sì, i risultati sono arrivati, Simone. Allora, rivediamo insieme. Volentieri. Allora, intanto questa è l'eccellenza, perché oggi c'è la giornata di campionato di Serie C, ma anche quella di eccellenza Abruzzo, la quarta giornata. Primi tempi, solo uno non è il definitivo, giusto? Allora, Acqua e Sapone, Avezzano, 0 a 3. Alba Triatica, L'Aquila, 0 a 0. Bacigalupo, Vasto Marina, 0 a 0. Sono i primi tempi, esatto. Definitivi i primi tempi. Quello rosso, invece, ancora non è finito il primo tempo. Non è il risultato a noi. Perfetto. Bacigalupo, Vasto Marina, Lanciano, 0 a 0. Capistrello, Sambuceto, 3 a 0 alla fine del primo tempo. Casal Bordino, Renato Curi, Angolano, 3 a 1. Nereto, Cupello, 1 a 0. Nero Stellati, Villa, 2015, 0 a 1. Ponte Vomano, Flacco, Porto Pescara, 0 a 0. Spoltore, Chieti, 1 a 0. Torrese, Penne, 4 a 0. Questi i risultati al momento, dopo i primi 45 minuti di gioco. Poi vediamo se ce la facciamo, entro le 5, a dare pure i finali. Bene, per quelli della Serie C, ci aspettiamo? Vero? Adesso andiamo allora in pubblicità e poi a rientro magari leggiamo anche quelli del campionato di Serie C. Grazie ancora Simone. Grazie a voi. Alla prossima. Andiamo in regia, in pubblicità. Eccoci che rientriamo. Allora lo spazio assolutamente, come dire, di proprietà di Marco Di Oreto e della meteorologia. Buonasera Marco, bentornato. Buonasera, grazie. Nello spazio settimanale seguite sempre Marco Di Oreto, mi raccomando, sempre, ogni giorno, alle 7 e mezzo circa del mattino, dentro di prima mattina, e poi dopo i due telegiornali, delle 14 e delle 19, con le previsioni giornaliere. Con Marco invece ci allarghiamo il mercoledì perché facciamo, facciamo, fa un discorso più ampio sulla meteorologia. Vabbè, facciamo il senso che io partecipo con passione. So che è molto apprezzato anche perché direi che posso ritenermi molto molto onorato di questo perché anche a livello nazionale non credo che ci siano meteorologi, io non so, informatore meteo, ma non ci sono nel campo della meteorologia chi ha uno spazio così immenso per spiegare la meteo. Quindi grazie a Super J che ha voluto questo spazio e io ben volentieri lo cerco di approfondirlo. Allora Marco, con che partiamo oggi? Facciamo una veloce analisi webcam, l'altra volta ti ricordi quella dei preditivi non funzionava, oggi invece farei che funziona, quindi andiamo a vedere un attimo il live, eccolo lì. Eccolo, ah. Eccolo lì, tempo quindi è ancora incerto, però il vento è... Allora io scusami, adesso sono dentro la tv, dentro relazione da un po', com'era? Era uscito il sole? Era uscito un attimo il sole, prima lo stavamo provando in regia e c'era un attimo il sole però si è ricoperto perché ancora siamo in una fase instabile. Perché qui a ridosso della catena è un po' più coperto forse, vero? Esatto, questo è proprio... Insomma, il corno piccolo si vede solo la base, vero? Quasi non si vede. No, infatti. I prati si vede. Credo che ci sia anche una spolverata di neve lì, non lo so se... È quella vecchia, dici? No, 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 dovrebbe essere anche perché... La nuova? Sì, non è che abbia... però sulle... oltre il... Oltre il franchetti dovrebbe essere... Ah sì, grazie. Ah ok, perfetto. Grande, Cristian, se ti giri vedi meglio. Se ti giri vedi meglio, giustamente. Sì. Sì, no, forse... no, pensavo fosse... Ma c'è il sole un po', guardavo là. Eh sì, esatto. Ma quando so bene i pratiti, ogni volta che vedo questa immagine... È uno spettacolo. Mi prende il cuore. E ti dico anche, ti anticipo che fra un pochettino vedremo tutto bianco. Bravo, e là ci prenderai il cuore. La settimana prossima. Qualcuno ci lancerà delle... Eh, vabbè, ma... Ma che dobbiamo fare? Ci piace la nero? A te le piace la nero? Cioè, è iniziato il nostro semestre, Rino. Il semestre bianco. Il semestre bianco. Vai. Allora, andiamo a fare intanto anche una panoramica al mare, giusto per parte di... Ma ci piace pure il mare. Ci piace pure il mare. Ma poi tra l'altro il mare ad ottobre è veramente spettacolare. Quando la giornale... Dove andiamo? Cristian, dove ci porti? Tortorete. Tortorete, dai. Anche perché fra un po' ci passa il Giro d'Italia, quindi andiamo a controllare come la situazione. Martedì prossimo, se non sbaglio. Martedì prossimo. Che è 13, giusto? Ridà? Eh sì, oggi è 7, quindi mercoledì prossimo. Sì, 7. Eccoci qua. Mi giro pure stavolta, scusate le spalle. C'è il vento. Eh, c'è un po' di vento, sì. Vento da nord. Un po'. Un po' di tramontana. La bagniera blu se la sta a incollare. Sì, sta a incollare, sì. C'è ragione. Beh, guarda, una dritta per gli amanti del ciclismo. Se è martedì prossimo, se vedete sulla web, qua ci passano i ciclisti. È vero. Può essere un'idea alternativa. Con questa immagine, per chi fa footing e va verso Giulianova, va che è bello. A salire non lo so. Esatto. Perché il vento... Dovrebbe programmare un passaggio programmato per il ritorno. Allora... Ok, dai, andiamo, iniziamo a fare un po'... Direi di iniziare a fare un'analisi del mese di settembre. Nel senso di, andiamo a controllare come è andato settembre. Diciamo... Controlliamolo. Controlliamo, a sensazione abbiamo ben capito che è stato un mese piuttosto caldo. Direi che a livello climatico è come se fosse stato un luglio. Sì. Quindi è abbastanza poco instabile come accade in altri settembre. Ecco qui. Allora, questo è un quadro sintetico del... Anche se ha fatto dei giorni molto freddo, vero? Pochissimo. Nella parte finale, la parte finale. Il quadro è sintetico del sito Trebimeteo. L'ho preso perché è molto bello, carino, perché ti rappresenta simbolicamente come è andata la giornata. È vero. Come vedi, abbiamo avuto, a parte un inizio di settembre... Cioè, subito ti fai... Sì, adesso lo allargiamo casomai. Guarda, all'inizio della settimana, del mese, scusami, c'è stato un po' di burrasca così, qualche nuvola, qualche piovasco, il Tre. Anche con il primo settembre, il 2 settembre che sono stati con quei cerchietti azzurro e verde, significa che si sono registrate temperature più basse o in media. Quindi, diciamo, a parte... Sembrava quindi un inizio di settembre che potesse essere un po' burrascoso così, e invece, in realtà, nella parte centrale, le due settimane successive, sole, praticamente tutti i giorni, fatta eccezione per giovedì... Il rosso significa sopramedia? Il rosso significa sopramedia ed anche, allora, la media di settembre, poi vedremo meglio la mappa climatica di Terra, ma comunque la media di settembre è attorno a 25 gradi, 25-26 gradi. Quindi abbiamo avuto addirittura 30-31 gradi in più circostanze, quindi siamo stati nettamente al di sopra. La settimana, verso la parte finale, è stata molto più dinamica. Come vedi, piogge tutti i giorni, scrosci temporaleschi, direi, anche se le temperature comunque sono state abbastanza elevate. Mentre invece, l'ultima settimana, gli ultimi cinque giorni, oltre a un po' di pioggia, le temperature sono state decisamente più basse, 20, 15, 18, 22 gradi. Questi sono i valori massimi. Questa dimostrazione è che settembre, per tre quarti, è stato decisamente un mese estivo, mentre invece la parte finale, diciamo la coda, c'è un po' rappresentato un anticipo di ottobre. Andiamo a vedere, anche già che parliamo di ottobre, della prima settimana di ottobre e come vedi, temperature abbastanza vicine alla norma del periodo, fatta eccezione per quel 3 ottobre, che è stato quello in cui ha tirato un po' di carbino, un po' di prima che arrivasse la... Lugarbe. Lugarbe, esatto. E quindi, come vedi, queste temperature sono state abbastanza nella norma e lo vediamo con questa mappa, che è la mappa, l'allargo, la situazione, sempre il nostro famoso cinquantennio 1951-2000, relativo a settembre-ottobre. Come vedi, settembre la media delle massime è stata, è di 25,3. A ottobre scendiamo a 19,7, diciamo 20. Le minime sono 15 a settembre e 11 a ottobre. Questo per capire che se a ottobre è una bella giornata e ci sono 20 gradi, non è che fa caldo, siamo nella norma. Perché si pensa che a ottobre sia già autunno, inteso come freddo, nebbia. No, 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 assolutamente no. Anche se vogliamo, per esempio, i giorni piovosi, nella parte bassa ci sono i giorni piovosi. Guarda, a ottobre sono sette giorni, cioè di media su 31 giorni di ottobre ne piove sette, non ne piove trenta. Capito? Quindi molte volte si crea l'immagine di ottobre come se fosse... Il mese piovoso per eccellenza qual è? Ma credo che sia novembre. Ah, eccolo lì, guarda, anche dicembre, appena dopo c'è la media, 8,3, 8,7. Però parliamo, cioè non parliamo di, dobbiamo uscire fuori da questo schema che i mesi di ottobre, novembre, dicembre, eccetera, piove sempre, assolutamente. Magari piove mezz'ora, un'ora e poi... Ma sì, ma complessivamente piove 8, 9, 10 giorni. Su 30. Se è un mese molto piovoso può piovere 13, 14 giorni, ma comunque la metà del mese... E noi diremmo, ha piovuto sempre. Ha piovuto sempre, esatto, no? Questo per far capire come ci sono dei concetti un po' diversi rispetto alla realtà. Dei nuovi comuni. Allora, quindi questo è il quadro di settembre, adesso ci tuffiamo più nella realtà e andiamo a vedere il satellite, eccolo qui. Vai col satellite. Questa è l'immagine attuale. E poi chi si segue, che vuole sapere, il tempo, eh? Vuole sapere, ma noi gradualmente ci sposteremo fino a tutto ottobre, anche perché oggi è uscita una cosa giusto per divertimento, ti faccio vedere un qualcosa di clamoroso. Però lo vediamo dopo. Ma ci abbiamo l'inverno? Eh, arriviamo. Allora, intanto di tutto vediamo questa immagine del satellite. ovviamente, la allargo un pochettino dalle parti nostre. Come vedi, la pioggia di questa mattina, credo che insomma abbia colpito tutta la regione, quindi chi un pioggia ascolta. A Rocca Santa Maria pioveva bene. Io sono stato piove. Direi a Teramo, Montorio, anche nella provincia dell'Aquila, ha piovuto un po' tutta la regione. Ed è quel blocco bianco che vediamo già al sud. Poi abbiamo avuto questa fase intermedia di pausa ed ora c'è ancora un impulso che sta per colpirci. Come vedi, dalle marche si sta spostando verso di noi. Porta acqua o sono solo nuvole? Dovrebbe essere pioggia. Ma lo vediamo subito perché adesso andiamo a vedere un'altra immagine, quella del satellite, che è, credo qui, vediamo un po'. Vai. Allora. Eccola, è lei? Sto cercando di... No, non è questa. Ecco qua. Ma la troviamo. La troviamo, la troviamo. Adesso con l'iPad che è nuovo qui, con il tablet è super... Come si dice in termine tecnico, sgrizza. Guarda qui, abbiamo un live, bellissimo. C'abbiamo il live? Abbiamo Radar che ci dice che in questo momento, ecco qui, guarda, in questo momento sta piovendo già a Pagliare, no Pagliare però, della Scolano, diciamo tra San Benetto e Martinsicuro e si sta avvicinando con anche, vedi quelle... Le saette. Le saette, esatto, quelle sono live. Peccato che non si sente il suono. La fase elettrica? Addirittura fa anche lo stacchetto, tac, c'è effetto scenico. E come vedi potrebbe essere, potrebbe avvicinarsi, anzi dovrebbe avvicinarsi... Siamo che resta sulla costa, no, non è detto. No, 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 questo sta... Questo arriva, è arrivato. Lo vedi il satellite di sopra che abbiamo visto? Si sta spostando. Quindi questa è una pioggia del poveri tra... Guarda, l'allargo un pochettino per far capire. Eccola. È un piccolo fronte che si sta spostando. Quello che prima abbiamo visto, quel fronte nuvoloso dal satellite. Possiamo dire a tutti i terramani o insomma alla provincia di Teramo che massimo mezz'ora, venti minuti, dovrebbe fare uno scroscio di pioggia. Quindi se dovete andare in macelleria tra mezz'ora, portatevi l'ombrello. Portatevi l'ombrello. Portatevi l'ombrello. Durera poco, però se non scroscetto localmente potrebbe anche più avere l'ombrello. Anche perché dove c'è il colore rosso sono scrosci piuttosto intensi. Eglia. Quindi ecco, diamo un live, super live. Grande, bravo, mi è piaciuto questo. Vedi, ogni tanto ci becchiamo qualcosa di interessante anche in diretta. Tu li becchi sempre in diretta. No, ma in diretta. Però questo sì, ancora di più. Oh, adesso invece andiamo. Storico Teramo. Dico subito per tutti gli amanti del sole che domani tornerà, anzi domani sarà una bellissima, stupenda giornata, come tutte le passate temporali. Maniche corte. No, maniche corte no perché continuerà a soffiare vento di tramontana e quindi piuttosto frizzante. Però sarà una bellissima giornata di azzurro, super terzo, chi può andare in montagna al mare. Oh, che bello. Secondo me si gode uno spettacolo unico. A temperature fresche ma abbastanza, diciamo, accettabili. Allora, mi metto in questa posizione. Perché? Questa è la pressione atmosferica perché, come vedi, l'azzurrino indica appunto pressione bassa. Beh, ma senza che me lo spieghi, ovviamente. Ma sì, ovviamente. Ormai sei esperto. No, no. Se non sei esperto sei rimandato a 9 a settembre. Sono rimandato. Sempre. Allora. No, quell'azzurrino è pressione bassa. Sì, diciamo, ed è la fotografia di adesso, no, in questo istante. Come vedi però, nella parte dell'Europa occidentale, Spagna-Francia, è già pronta una rimonta anticiclonica. Quel marroncino lì con lacca appena a largo della Spagna, la vedi quell'acca lì? Quindi, ecco, volevo far vedere proprio quando ho detto che domani sarà bel tempo, ma anche, diciamo, allunghiamo a venerdì e sabato. E perché, appunto, ci troviamo in questa situazione atmosferica. Allora, questo qui non riesco a trovare. Cos'è che non riesci a trovare? Eh, ci deve essere la dinamica per andare avanti. Non trovo. Ah, non trovi il play. No, esatto, è scomparso il play. Sì, purtroppo non lo trovo, quindi non... Vabbè. Vi dovete fidare di me. Sì, noi ci fidiamo. Nel senso che quell'anticiclone che si trova sulla parte... Spagna-Francia. Riuscirà ad invadere i prossimi giorni, quindi domani, dopodomani e sabato, riuscirà ad invadere la nostra... E garantirà quindi... E garantirà sole, bel tempo, temperature, diciamo, fresche, ma nella norma del periodo, poco più, insomma. Perché quello spazio marroncino ci... Andrà a conquistare tutto il Mediterraneo e parte dei Balcani, quindi il maltempo attuale si sposterà, diciamo, verso la Grecia, la Turchia, verso Oriente. E questa quindi è la situazione per i prossimi tre giorni. Ma la novità, super novità direi... Una super grande novità è quella di domenica. Rullo di tamburi. Perché? Rullo di tamburi sì, perché domenica ci sarà una situazione... Il crollo termico. Davvero, ah no, un crollo termico. Potremmo quasi tecnicamente chiamarla, lo so che ti piace, sciabolata artica. Sciabolata artica mi piace forte. Sì, perché sarà... Il top è crollo termico, sciabolata artica e goccia fredda. Goccia fredda. Quella è il top dei top. Allora, questa si può definire quasi una sciabolata artica, che è decisamente anomala per il periodo. Infatti avremo una situazione del tutto fuori luogo. Allora, andiamo con il supporto di queste immagini, innanzitutto per fare una spiegazione veloce di quelle che sono le possibili correnti che vanno ad invadere la nostra Italia. Siamo oggetto di molte frecce lì. Sì, esatto. Allora, quella che dovrebbe giungere domenica è la, diciamo, un flusso di una massa d'aria artica marittima, quella che parte dalla Gran Bretagna, diciamo, dal mare, la vedi quasi... Quella rossa a sinistra, no, quella blu a sopra. Blu centrale, no? Sì, 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 sì. Poi, nell'ipoteca, quella invece, per esempio, la perturbazione che ci ha colpito sabato, domenica e lunedì, quella scorsa, dopo il Garbino, per capirci, è stata un'intermedia marittima fredda. Che è quella che vediamo a sinistra dopo. Che è quella sempre azzurra, no? Sì, sì. Mentre invece, quando abbiamo le ondate artica continentale, intermedia continentale, che significa? Sì, sono le due sacche. Sciapolata. Sciapolata con freddo, anche, diciamo, il famoso Burian, per esempio, no? Quello, il freddo veramente intenso. Mi stai a dire che domenica arriva un po' di Burian? No, 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 di Burian. Arriva qualcosa da là. Quella da nord, quella tra Gran Bretagna e Scandinavia, per capirci, ma adesso lo vediamo un attimo bene. Mentre quelle sotto sono, diciamo, quelle più miti, o addirittura, in modo terrificante di caldo, quelle proprio tropicali e continentali, quelle che vedi con la freccia dalla Sicilia, no? Sì. Sono le più intense da un punto di vista del caldo. Vai. Andiamo a vedere, ecco, questa, direi che questa fotografia, vediamola, di domenica è emblematica, perché ci indica, ecco, io con la freccia bianca ho indicato proprio più o meno la direzione del freddo, come vedi giungerà, che cosa? Avrei con la pressione, la dinamica prima della pressione ti avrei voluto far vedere che cosa succedeva, purtroppo con il play non c'è, quindi non riesco ad andare avanti, però come vedi, nella parte sinistra di quell'area azzurra, in alto, vedi quel verde che arriva addirittura fino all'Islanda, è l'anticiclone delle azzorre che invece di stare nel suo luogo, casomai come succede domani e dopodomani, stare da noi, punterà dritto verso nord. E chi gliel'ha detto? E chi gliel'ha detto? Non lo so, gliel'hanno permesso. Dove ha venuto da noi? Diciamo che gliel'hanno permesso. Dove restare da noi? Gliel'hanno permesso. E quando succede questo, quindi un impulso di, cioè l'anticiclone che punta verso nord, dall'Artico c'è la risposta fredda, quindi direttamente dall'Oceano Artico avremo questa ondata di freddo che... C'è un effetto quasi a Tenaglia. A Tenaglia perché non è casuale che l'ho messo in quel modo, perché quella è la barriera delle Alpi, la catena alpina, scusate, che farà proprio da barriera che impedirà al freddo di venire in modo diretto, perché se non ci fosse... Pianura, perlomeno in Pianura Padana. Almeno avremmo avuto qualcosa di cui parlare in maniera quasi eccezionale. Quasi eccezionale. Comunque ti posso garantire che cosa succederà? Che il freddo aggirerà le Alpi. Esatto, trovano il passaggio. Esatto, sia dal Rodano... Novello Annibale questa sciabolata. Esatto, che di Bora. Ovviamente giungerà da noi in modo più smorzato, quindi non ci sarà l'azzurro. Attenzione, l'azzurro significa zero gradi, o se non addirittura valori inferiori a zero ai famosi 1.500, 850 ectopascal, quindi... Cioè, zero gradi significa la neve al piazzale dei prati. Significa che in Germania potrebbe esserci neve a cote basse. Capito? Senti l'aria? Germania, Scandinavia, eccetera. Da noi quello non accadrà, però potremmo sicuramente avere nevicate attorno ai prati di Tegu. E arriverà da noi questa sciabolata? In modo, ripeto, in modo smorzato, ma arriverà anche da noi. Questo per far capire... Domenica? A partire da domenica. Dico a partire perché forse la vera anomalia non è tanto l'irruzione fredda, che certamente rappresenta una novità, un'eccezione, ma normalmente accade che queste sono sciabolate, quindi passano veloci e se ne vanno. Qui addirittura sembra che si instauri una situazione climatica fredda, quindi poi la sciabolata diventa goccia fredda. Un torneo di sciabola. Un torneo di sciabola con goccia fredda. Con goccia fredda. E lo possiamo osservare anche da questi spaghi meteo. Guarda, quelli... Allora, questo diciamo adesso ve lo devo cercare di chiarire bene perché sembra una specie di sudoku qui. Allora, noi siamo ovviamente nella parte di sinistra e come vedi comunque siamo in media, vicino a quella curva rossa, cerco di allargare nella zona, nella parte sinistra. Domani, come vedi, gli spaghi vanno in basso, quindi domani sarà bello, ma ci sarà una rinfrescata perché dopo questa perturbazione ci saranno correnti di tramontana, quindi farà piuttosto... Giornata bella ma fresca. Fresca, non fredda. Direi che, non so, potremo avere minimi... Anche inferiore a 10 gradi questa notte e massimi di 17-18 gradi, anche di meno. Sai che ti voglio dire una cosa che c'entra e non c'entra, però in questi tempi dove stai rimontando purtroppo un po' di paura per il coronavirus, per il covid, quindi per i contagi, questi sbalzi, no, spesso proprio a ottobre, coi primi freddi, magari ti ingenerano e ti scatenano qualche raffreddore e ti viene la paura, ma va che... Quindi stiamoci attenti. Sai che ti posso testimoniare che, per esempio, oggi in classe di mia moglie, diciamo a scuola, non diciamo altro, c'erano cinque assenti, tutte e cinque... Con raffreddore? Con raffreddore, tosse, decimi di febbre, non il famoso 37,5 che fa scattare altro, però comunque la situazione è già... Quasi da monitorare, diciamo. Da monitorare, esatto. Poi si possono creare appunto... Poi diventa difficile, penso, per i pediatri capire... Ma ce l'hanno detto spesso, no? Soprattutto le categorie, diciamo, tra virgolette un po' a rischio, in età o comunque i lavori particolari, anche i professori, ma con gli stessi medici, devono vaccinarsi per l'influenza intanto, no? Esatto. Perché almeno scongiuri un... Sì, sì. ...un'influenza. Tamponi, ma non si dice, però non è tanto bello dire tamponi. Non si può dire né più tampone né positivo. Sì, ammortizzi. Brava. Allora, torniamo agli spagli. Torniamo a noi. Quindi dopo questa sbruffata fredda, ma, ripeto, con bel tempo di domani, si ritorna nella norma. Ma come vedi bene, gli spagli non si va mai oltre. Non tanto oltre la media. Avremo comunque un clima tipico del periodo, però è lì... Però il rito è messo? Io ho detto 12-15 ottobre. Guarda che crollo. Un ellisse, un insieme hai fatto lì. Eh? Un insieme, un ellisse. Esatto, è proprio quel periodo. 12-15, quindi parliamo di 4-5 giorni, in cui avremo temperature. Adesso mi riconduco quelle due frecce che ho messo. La curva gialla che ho inserito, ho detto novembre. Quella è la media tipica... Della temperatura di novembre. Sì, parliamo sempre di quota, parliamo sempre di 1500 metri. Vabbè, metri. Mentre quella celeste è dicembre. E come vedi ci andremo a collocare tra il 12-15, tra novembre e dicembre, quindi avremo un clima decisamente quasi invernale. L'hai detto. Potrebbe anche non fare... La sciabolata ci garantirà. Ci porterà dal 12-15 ottobre un clima quasi invernale. pseudo. Eh, diciamo tra novembre e dicembre. Tra novembre e dicembre. Che ne so, potremmo avere appunto le prime nevicate a quote di montagna tipo Pratiditivo, casomai negli scroci più intensi anche qualcosa sotto. Quindi... O un'acqua e neve a Prati. Sì, no, forse a Prati è un po' troppo basso. Direi sotto ai 1200 è difficilissimo, però non si sa mai. Questa è la situazione, anche perché come vedi gli spaghi sono ancora un po' non proprio del tutto compatti, quindi un conto stare in quelli più alti, un conto stare in quelli più bassi. In quelli più bassi siamo in dicembre pieno, quindi è da vedere. La cosa appunto anomala è che questi spaghi continuano a rimanere perennemente sotto media e siamo a... diciamo con la parte più destra degli spaghi andiamo a finire al 18 di ottobre, quindi direi veramente un ottobre che se continua con questo trend potrebbe essere clamorosamente sotto media. e questo è il quadro della situazione per quanto riguarda... Che altro abbiamo? Che altro andiamo? Allora andiamo a vedere, abbiamo l'evoluzione del tempo successivo, va bene, più o meno l'ho detto con queste immagini, fammi vedere se trovo qualcos'altro o no. Andiamo a vedere, ah ti volevo far vedere, però lo devo cercare su internet, una cosa, è uscita fuori una carta di oggi che vale 0,05, però è decisamente ancora più clamorosa di quella che abbiamo visto adesso. Questo era il clamoroso che mi volevi dire. No? Sì. Sì? Un clamoroso più clamoroso, un clamoroso l'abbiamo già detto. Sì, però adesso ti faccio vedere, però mi devi dare un secondo il tempo di trovarlo. Ma io ti do anche due secondi. Allora, vediamo un sonno. Oh, vediamo. Se lo trovo. Sì. Ti faccio vedere la mappa, ecco arriva subito perché con questo ripardo sgrizza, sgrizza, ma molto più veloce, quindi la cosa è fattibilissima. Allora mi pongo Poniti. Alla fine, quindi parliamo di, guarda qui che roba. Guarda che roba. Venerdì 23 ottobre. Ripeto, premessa, non vale nulla, è la carta che non vale... 0,05%. Guarda che questa carta, non so se si riesce a vedere bene, quella è l'Italia. L'Italia è là sotto il blu. Questa è un'ondata, direi quasi, di aria artica continentale. Con queste temperature, e parliamo di 23 ottobre, 23 ottobre, se fosse vero, diciamo, che succederebbe, la sottolineo di una volta perché sarà ritrattata già questa sera, però, però intanto, al momento, per curiosità, sarebbe un evento eccezionalissimo perché avremmo nevicate a quote praticamente di pianura in pianura padana e a quote collinare o basse da noi. A Terra e a Montori. No, Terra e a Montori no, però, che insomma è sui 500-600 metri, è una carta del tutto clamorosa. Anzi, te la faccio vedere, giusto per concludere, scopiscimi, a livello di emisfero, perché forse rende ancora di più l'idea. Guarda che cosa succede. Vediamo. l'Italia, l'Italia si trova sempre nella parte bassa, guarda, allora, qui è come se nella parte centrale ci fosse il polo nord, no? Sì. Ed è completamente splittato, ti ricordi che ne avevamo parlato in inverno? Di split del polo. degli splittatori professionisti. E questo perché il vortice polare che è entrato di nuovo in azione da settembre-ottobre, ma è completamente fuori sballato. È l'opposto dell'inverno scorso. Si è fatto le canne. Se questa carta avvenisse a dicembre o gennaio, ma avremmo un Burian peggio del 2012, ma veramente oltre il gelo, con meno 10, con le carrettate di neve, sarebbe veramente una carta clamorosa per essere, per ottobre diciamo, e comunque... Però è una previsione che tu dici può essere smentita di più a qualche giorno. Ma sarà smentita al 99,9%. E se non viene smentita? Avremo due mercoledì per parlarne. E abbiamo finito. Abbiamo finito qui. Sì, se vuoi posso anche... Ma se ce l'abbiamo. Se c'è qualcosa ti posso far giusto per... Ma giusto perché sei tu. Ma giusto perché sono io. No, no, andiamo a vedere soltanto una previsione del modello europeo. Da un punto di vista ci allarghiamo anche sulle due settimane dopo. Allarghiamoci. Vai. Sempre se ci riesco. Sì. Ci dovrebbe... Ce la dovremmo fare, io credo, no? Però già le curiosità che ci ha dato finora... Ci sono cose veramente... Quindi mi devo segnare 23 ottobre circoletto rosso. Ma non lo segnare. Anzi, blu. Era solo giusto per gioco per noi. Per gioco. Allora, queste sono... Questa è la mappa... Sì. ...del tempo... Ne ho parlato troppo bene dell'iPad. Adesso mi tradisce nel più bene. Eh, vabbè. Eppure c'è qualche difficoltà. Allora, questo è la temperatura di questa settimana 5-11. Vedi l'Italia... Vediamo. Non so se si riesce a vedere... L'Italia è bianca e un po' blu. E un po' azzurro. Un po' ciano. Esatto. Piuttosto freddina, ma niente di eccezionale. È la settimana in... Diciamo in... Questa settimana. Questa qua. Viceversa. Concludo con quella prossima per farti capire come il freddo assumerà un carattere ben diverso. Proprio per quell'ondata di freddo... Il carattere bellicoso. Freddo intenso, ma decisamente intenso. Guarda qui che roba. Guarda che roba. Guarda che roba. L'Italia, fatta eccezione per il sud, l'Italia, soprattutto l'Italia, anche... Beh, ti dicevo Germania, Francia, Spagna... La Spagna è ancora più clamoroso. Perché è un'ondata di freddo che colpirà, oltre che l'Italia, anche in modo più smorzato. E potrebbe colpire. Questa, diciamo, che colpirà è quella del 12-15. Quella del 12-15. Quella della Tenaglia. Esatto. Eh, ragazzi. Come vedi, tutta l'Europa centro-occidentale sarà invasa da freddo... 9 dicembre. Novembre-dicembre. Sì, diciamo di fine novembre-dicembre. Infatti questi colori azzurri indicano, e te lo vedo sopra, vedi i valori inferiori di meno 4-5 gradi rispetto alla norma. A 1.500. Questa, diciamo, questa no. Questa è la situazione, la fotografia a terra, quindi a due metri. Agli a terra. Quindi, questo per dirti che sarà... A terra meno 2? No, meno 2. Aspetta, meno 4-5 gradi rispetto alla media. Ah, ok, ok. No, no, no. Ok, no, no. Se no iniziamo a dare l'allarme. Vabbè, però... Però, significa stare 5-6 gradi sotto... Significa stare a dicembre quasi. Allora, abbiamo visto che la media di ottobre è 20 gradi, praticamente avremo 14-15 gradi, 13 di massima. Come massima di un giorno. La mattina, che erano 11 come valore, avremo 5-6 gradi. Insomma, la mattina alzarsi a 5 gradi... Bella, bella. Bella non è. Non è. Va bene. Marco, grazie. Grazie a te. Grazie come sempre. Noi ci vediamo mercoledì prossimo per l'analisi settimanale della meteo. E ti farò vedere come il 23 ottobre, segnatelo, sarà cambiato drasticamente. 23 ottobre, sta qua. 23 ottobre. Octobre. Va bene. Oh, dati dell'eccellenza, guarda. Oh, l'eccellenza. Acqua e sapone, Avezzano. Che sono questi? Sono tutti i primi tempi? No, sono parziali. Un aggiornamento. Aggiornamento, aggiornamento. Acqua e sapone, Avezzano, 0-3. La senti l'aria? Alba di Aticalaquila, 0-0. Eh, questa è dura, l'aveva detto il tecnico Cappellacci perché l'Aquila è il primo in classifica. Sì, 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 infatti. Se permetti. Poi, Bacicalupo, Vasto, Marina, Lanciano, 0-0. Capistrello, San Buceto, 3-1. Casal, Bordino, Renato, Curi, Angolà, 3-2. Il Festival del Gol. Il Nereto era addoppiato. Attenzione. Nereto, 2, Cupello, 0. Nero Stellati, Villa, 2015, 1-1. Pontevomano, Flacco, Porto Pescara, 0-1. Spoltore, Chieti, 2-1. Occhio. Torrese-Pegna, la Torrese è alla grande, 5-0. La manita della Torrese. La manita, bravo, la manita. Va bene, grazie per l'aggiornamento. Adesso, ringraziando ancora Marco, ritrovi mercoledì post. Prossimo, andiamo in pubblicità e poi parleremo con il consigliere comunale dei 5 Stelle, Pina Ciamariconi. A tra poco. Eccoci qua che rientriamo in studio, come vi ho detto, sono molto contento di ospitare oggi a J-Live, Pina Ciamariconi, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. E benvenuta, benvenuta. Buon pomeriggio. Qualitativamente, ovviamente, molto importante, come ospedale per i servizi sanitari, che fornirà adesso il dibattito è incentrato molto su dove localizzarlo. Perché alcuni dicono, no, non è importante. Forse per l'urbanistica e per la storia di questa città, invece, può essere importante. Se mantenerlo nell'area di Villa Mosco, se addirittura potessi andare nell'area di Casalena, dove ci sono terreni e strutture di proprietà della ASL, oppure nel sito che adesso è più gettonato per l'ASL di Teramo, quello di Piano Daccio. Pina Ciamariconi, vediamo qual è il punto di vista dei 5 Stelle Teramani. Proverò a fare... A sintetizzare. A sintetizzare. Sentiamo. Ci sarebbe moltissimo da dire, perché questo è un tema... Noi, una ventina di minuti ce l'abbiamo. Cercherò di dire tutto quello che possa essere utile ai cittadini. Il problema nasce nel momento in cui il nostro parlamentare Berardini ha provato a fare una richiesta d'accesso agli atti, alla ASL, proprio perché sappiamo che oggi la trasparenza e la condivisione, soprattutto quando si parla di grandi opere, sono fondamentali. Quindi si è voluto da subito cercare di capire che cosa stesse succedendo e che cosa potesse succedere alla città di Teramo con questo nuovo ospedale. Sappiamo tutti che la ASL si è rifiutata di dare gli atti al parlamentare e adesso sta utilizzando una delibera comunale del luglio del 2017, proprio come alibi per nascondersi a questa delibera e dicendo che in realtà l'unico sito che è stato sottoposto come sito idoneo per realizzare il nuovo ospedale è quello di Piano Daccio. Allora noi chiediamo al sindaco Gian Guido D'Alberto, che già l'altro giorno in conferenza stampa ha detto di essere d'accordo su questo, di riprendere quella delibera comunale, di modificarla e di integrarla aggiungendo il sito di Villa Mosca e la relativa a planimetria. Ma questo a voi, nel senso, vi tranquillizzerebbe? Lei è favorevole al sito di Villa Mosca? Io sono molto favorevole al sito di Villa Mosca. Quindi vi tranquillizzerebbe in quel senso, una volta inserito dice lo facciamo a Villa Mosca? No, perché poi sono tanti i siti e si può scegliere comunque Piano Daccio, giusto? Assolutamente non ci tranquillizzerebbe. Noi vorremmo che si mettesse nel rosso e bianco quali sono le motivazioni per cui non si possa realizzare questo nuovo ospedale a Villa Mosca. Vorremmo innanzitutto che si tenesse conto che la città ha una sua struttura e che per realizzare un'opera del genere la prima cosa da fare era quella di interpellare anche gli ordini professionali per sapere che cosa comporta la realizzazione di questo ospedale, spostarlo. Poi la cosa che a noi fa più male è questa. Noi parliamo di soldi pubblici perché al momento di reale ci sono solo... Allora ci chiediamo... Che però non basterebbero per realizzare il nuovo ospedale. Non basterebbero per realizzare un nuovo ospedale ma le chiedo a lei, le faccio io adesso una domanda, le voglio chiedere secondo lei un cittadino che cosa vorrebbe una sanità pubblica che funzioni oppure vuole l'ospedale di secondo livello per dire noi a Teramo abbiamo l'ospedale di secondo livello. La risposta è inutile a darla, è ovvio, quindi è la prima. Se lei prova a chiedere, a vedere in ospedale quanto tempo ci vuole per prenotare un eco color doppler, le posso rispondere che sarà luglio del 2021. Ma stanno spostando ancora le visite, stanno chiamando i pazienti per spostare le visite di 4-5 mesi. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Noi abbiamo dei soldi pubblici e dobbiamo questi soldi pubblici utilizzarli al meglio. Teramo è già, e lo sappiamo tutti, ha già subito tre project financing che hanno provocato dei gravi danni alla città e questo lo sappiamo tutti. Basta guardare ai fantastici giardini di Piazza Dante, che non ci sono, oppure a quello che ha causato ai cittadini terramani, alla città di Teramo, il centro commerciale che ha svuotato completamente la città e i negozi al centro storico. Oppure sono il mega parcheggio, il mega parcheggio dell'ospedale che ancora stiamo pagando con i soldi pubblici. Anche quello è un project? Anche quello è un project, è andato male. Per cui il privato ha detto, noi non ci siamo più, finitevano voi. E noi lo stiamo finendo. Tra l'altro se l'ospedale andrà a piano d'accio, quale sarà l'utilizzo di quel mega parcheggio? Probabilmente nel vecchio ospedale resterebbe, credo, qualche servizio importante. Certo, perché a Villa Mosca ci sono queste strutture già realizzate e ci sono ancora 6 ettari di terreno da poter utilizzare. Perché buttare tutto per andare a ricostruire in un altro posto? Quando parla di 6 ettari non parla però della pineta. Parlo della zona che la ASL ha attorno a quell'ospedale di terreno. Quindi bisognerebbe mettere sul lago della bilancia... E dice sulla bilancia un po' tutto. Siccome da più parti poi si dice, però, quello che sarà il nuovo ospedale di terreno in realtà è un ospedale di carattere provinciale. Ecco, questa può essere una carta da giocare contro chi vuole l'ospedale a Villa Mosca. Se deve essere un ospedale provinciale è più logico che stia un po' più prossimo al resto della provincia e non dentro la città. Cosa risponde a queste... Io le rifaccerò domanda di prima. Se vogliamo avere una sanità... Se ci preoccupa una sanità pubblica che funzioni... Ma poi la risposta può essere una, quando è arrivata a Piano Daccio, arrivare a Villa Mosca non è che ci vuole chissà quale. A Piano Daccio, se succede qualche cosa, c'è una superstrada e abbiamo visto che se c'è un incidente si blocca tutto. Se piove si ferma tutto. Cioè, bisogna un attimo valutare. Vogliamo vedere... Non siamo contro. Vogliamo vedere... Vediamo tutto. I pro e i contro di ogni sito. Un'altra domanda, e voglio sapere la posizione di Pina Ceramericone e dei 5 Stelle. Chi deve decidere sulla localizzazione di un nuovo ospedale dentro, in questo caso, il comune di Teramo? Deve decidere il comune, la ASL, o deve decidere l'impresa che realizza il project financing? Di certo non la ASL, di certo non chi realizza il project financing, perché il project financing, se un privato vuole costruire, può costruire dove vuole, con i suoi soldi, senza ombra di dubbio. Se aiuta il pubblico, bisogna vedere che cosa vuole, qual è la contropartita. Quindi bisognerebbe sapere... Lei dice che da questa premessa dovrebbe decidere il comune. Sì. Però se la ASL magari utilizza fondi che arrivano dal ministero, non so, possono arrivare dal ministero della salute... Arrivano i soldi dal ministero perché sono soldi per l'edilizia pubblica, certamente, però va... Intanto, noi stiamo parlando... Qui, questo bisogna capire, perché se deve decidere il comune, decide il consiglio comunale. Se deve decidere la ASL... Noi in questo momento stiamo parlando del nulla, perché noi abbiamo, come dato certo, come le dicevo all'inizio, gli 81 milioni. Questo è l'unico dato certo. Dopodiché la regione... Quindi arrivano dalla regione, no? Lo Stato, tramite la regione... Attraverso la regione e dallo Stato. Però la regione non ha detto nulla, noi non sappiamo ad oggi l'assessore Verì che cosa vuole fare con il piano sanitario. Quindi parliamo del nulla al momento. Senta, e lo stato dell'arte delle proposte arrivate, siamo rimasti, ce n'è una adesso? Una fu bocciata dalla stessa ASL, no? Una fu bocciata sempre dopo che Berardini aveva fatto richiesta... E non si è visto nulla. Non si è visto nulla, ma c'era qualcosa, si è capito che c'era qualcosa che non andava ed è stata bocciata. E tant'è che è stata bocciata. Sì. Adesso... Adesso cosa c'è? C'è ancora... C'è oltre quella di Pizzarotti, ce ne sono altre due che sono... Sempre su piano d'accio, o no? Sì, perché al momento... Così si dice. Nella risposta... Oddio, nella conferenza stampa della ASL, il direttore di Giosia disse che si lavorava su piano d'accio. Il direttore di Giosia dice, e ha messo nero su bianco, rispondendo al parlamentare, che non si può prendere, cioè per forza piano d'accio bisogna prendere come punto di riferimento, perché non c'è Villa Mosca in questa delibera comunale. Perciò che voi vi siete battuti tanto, non solo i 5 Stelle, ma anche altri, no? Ricordo il consigliere Fracassa di Futuro Inno. Sì, le ricordo che per noi questa è una battaglia di tutti i cittadini, quindi deve essere a partitica. Tant'è che noi eravamo partiti come Movimento 5 Stelle a raccogliere per prima le firme. Per prima abbiamo raccolto le firme, però adesso abbiamo sposato questa iniziativa anche dei comitati di quartiere e non faremo più banchetti con il simbolo del Movimento 5 Stelle, ma andremo ad affiancare i comitati di quartiere perché è una battaglia di tutti e quindi va portata avanti da tutti. Però ci preme ricordare che il nostro parlamentare ci ha messo la faccia, è l'unico politico che ci ha messo la faccia per primo e ci sta aiutando. Quindi adesso i prossimi passaggi che dobbiamo aspettare? Che Villa Mosca sia inserito stabilmente nel novero dei siti su cui potrebbe sorgere? Un primo passo, ma certamente non è l'unico e noi non è che ci accontenderemo del fatto che sia stato inserito come sito. Noi vogliamo che gli ordini professionali vengano ascoltati. Non è spostare un ospedale potrebbe creare dei grossi problemi alla città che già ha perso tanto e andrebbe a perdere ancora. Allora se ci sono delle motivazioni oggettive importanti, ben venga. Però devono esserci, dobbiamo leggerle. Bene, e questa è la posizione sull'ospedale. I parcheggi, un altro problema degli ultimi tempi, i parcheggi e soprattutto il destino dei lavoratori della cooperativa Tercop? Qui mi trova un po' in difficoltà perché io ho ricevuto personalmente un attacco da Iachini, che è il presidente della Tercop, perché si è risentito per alcune nostre affermazioni. Noi siamo stati molto chiari in Consiglio Comunale. Ci siamo assenuti dal votare questa garaponte e questo project financing proprio perché abbiamo chiesto a gran voce quel giorno durante il Consiglio, ma anche dopo con un comunicato, che la cosa più importante è salvaguardare tutte le famiglie di quei lavoratori. Quindi abbiamo chiesto questo. E siccome dall'ufficio tecnico, dal dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, non c'è stata data nessuna garanzia per queste persone che nella garaponte non potranno essere tutte quante assorbite, noi nonostante crediamo e siamo convinti che bisogna portare la legalità anche in questo servizio perché non è possibile che per dieci anni si tenga un servizio di questo genere senza contratti e senza che ci sia una tutela legale. Quindi siamo convintissimi che bisogna arrivare ad una soluzione, ma bisogna salvaguardare sicuramente chi lavora tutti. Nessuno deve rimanere fuori dei lavoratori della Terco. E quindi se dice questo perché Iachini se l'è presa? Perché lei ha detto che bisogna che ci sia la legalità completa, insomma. Perché forse abbiamo detto che nel corso degli anni... Siete comunque per una gara per l'affidamento di quel servizio. C'è bisogno di trovare una soluzione illegale e abbiamo detto che forse nel corso degli anni il fatto di rinnovare tacitamente questa situazione ha un po' portato tutti... E voi non lo trovavate legale ovviamente questa cosa. Corretto, ma anche perché mi lasci dire se io dipendente della Terco devo prendere un prestito, un finanziamento, qualunque cosa, io non ho nessun contratto in mano. Invece se ci fosse stato un contratto... Carta canta, insomma, è un contratto. Certo, sarebbe stato meglio... Ricordiamo la Terco è la cooperativa che gestisce i parcheggi terramani, i parcheggi a pagamento. Perché poi questi parcheggi, per come hanno strutturato il project financing dei parcheggi, ci sono delle cose positive e sono pochine, ma ce ne sono tante negative. Cioè non è prevista nessuna tariffa forfettaria. Teramo, un altro po' è più cara di Roma. Se devi fermarti per due ore non c'è la possibilità, non c'è un prezzo forfettario. Quindi lei dice una tariffa un po' più agile, più snella, più... Sì, e considerare pure che... Se noi andiamo a stringere, andiamo a vedere che una persona, un cittadino terramano, piuttosto che fermarsi a Teramo a fare delle compre o altro, allora se ne va al centro commerciale, lascia la macchina, non paga nulla e trova tutto. E' stata anche abolita la fascia oraria. Quindi se io dipendente o lavoro mattina e pomeriggio, prima avevo una fascia oraria e magari mi fermavo a mangiare in una tavola calda o in un bar, in una pizzeria, avevo il parcheggio gratuito. Adesso invece ci devo pagare pure il parcheggio. Quindi va a discapito pure dei negozianti che hanno queste attività. E' anche il fatto della... E' vero, sono stati agevolati i residenti, perché con le tariffe che sono state messe per i residenti loro hanno una tariffa un pochettino, molto bassa e hanno la possibilità di parcheggiare dalle 18 del pomeriggio fino alle 9 del mattino. Ma alle 18 è un orario che per i commercianti ancora c'è vita. I negozi sono aperti. I negozi sono aperti e alle 9 della mattina se viene una persona e deve andare a lavorare e non sa dove lasciare la macchina non può più neppure lasciarla a pagamento perché alle 9 finisce la fascia per i residenti. Quindi sarebbe un attimo... Da rivedere. Da rivedere. Allora, prima di concludere questo nostro spazio, voglio tornare... Io l'ho presentato giustamente al capogruppo del Movimento 5 Stelle. Prima il capogruppo era il candidato sindaco dei 5 Stelle, Rocchetti, giusto? Che però poi si è dimesso dalla carica di consiglieri, insomma ha lasciato il Consiglio Comunale e al suo posto è subentrato Verzilli, giusto? Però Verzilli che ha fatto è subentrato come primo dei non eletti 5 Stelle ma ha costituito il gruppo della Lega, cioè ha lasciato... E quindi lei si è ritrovata sola. Come la vogliamo commentare questa... Queste cose che succedono sono sempre successe per dire la verità. Lasciano sempre un po' come dire. Guardi... Perché è stato eletto nei 5 Stelle, Verzilli, giusto? Sì, è stato eletto nei 5 Stelle. Eletto, non eletto, ma primo dei non eletti è approdato in Consiglio Comunale quando si è dimesso Rocchetti. Sì. Cristiano Rocchetti ha lasciato... Non avrebbe dovuto dimettersi. Non avrebbe dovuto dimettersi. Diciamo, perché il candidato sindaco si dimette. Bella, bella non è. Bella, bella non è, ma lui pensava di fare un bene a me perché per il lavoro non poteva partecipare alle condizioni. Poi ci sono, in effetti, io scherzo, ma ci sono delle condizioni poi che magari spingono la persona a non poter stare in Consiglio Comunale. Io che sapevo già quello che sarebbe successo dopo perché conoscevo chi mi seguiva. Perché Lerzile aveva già cambiato idea, evidentemente. Era scomparso dai radar dei 5 Stelle. Dai radar dei 5 Stelle. Quindi speravo che Cristiano non lo facesse. E poi il resto... Lei gliel'ha detto? Tantissimo. E il giorno che ha presentato la lettera, in Consiglio Comunale, io piangevo, ma piangevo perché ero veramente disperata, perché sinceramente essere in due consiglieri sarebbe stato un pochettino più facile che essere da sola. Ha buoni rapporti anche con Verzilli, o no? Però ha lasciato il movimento. Preferisco... La domanda è di riserva, vuoi? Sì, 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 certamente preferisco non rispondere. Va bene, e quindi si è ritrovata... Da sola però ho degli ottimi collaboratori che mi aiutano. Che l'aiutano? Certo, per essere sempre a fianco dei cittadini. Senta, ma lei... Vabbè, in un minuto non è possibile dirlo. Però fino a qualche tempo fa il Movimento 5 Stelle andava con un vento in poppa, eccezionale, per voi fantastico, credo, che ha portato alla vittoria delle elezioni politiche. Insomma, ricordiamo, è uscito come primo partito a livello nazionale. Poi, evidentemente qualcosa è successo, perché sotto gli occhi di tutto, insomma, è cominciato a perdere pezzi. E questo è un caso emblematico anche a Teramo, no? Quello che è successo. E se è dato una spiegazione, mi rendo conto che in un minuto e mezzo non è proprio facile, però... Ci provo. Sì. Io la spiegazione me la sono data. Le posso dire... Io non ero una politica. Non amavo la politica. Mi sono avvicinata a questo mondo, perché... Per i 5 Stelle... Ma come molti 5 Stelle, no? Come molti 5 Stelle. Hanno avvicinato molte persone che non facevano politica. E voglio anche... E credo che sia il loro merito, tra l'altro. Voglio anche peccare di vanità. Penso pure che Teramo sia fortunata ad avermi come consigliera. Beh, modesta come dichiarazione, però... Ma certamente, ho detto voglio peccare di vanità. E penso che siamo tutti delle persone, ognuno di noi ha la sua storia. Il Movimento si chiama così proprio perché è in movimento. E allora bisogna fare delle scelte. Così tanto in movimento che alcuni si muovono un po' troppo. E se ne vanno. È una questione di scelte personali. Io posso parlare per me e sto benissimo come sto e dove sto. Ed è contenta ancora degli ideali che ha sposato del Movimento 5 Stelle. Sì, nel momento in cui non li riconoscerò più, non passerò a nessun altro gruppo, ma tornerò a casa. Io credo che dovrebbe essere messo per legge. Che uno è letto con un... Dice non ti riconosci più, saluti e te ne va. Sicuramente. Sicuramente. Io lo firmerei una cosa del genere. Va bene. Allora, siamo arrivati alla fine. Io non so se abbiamo gli aggiornamenti ulteriori o la fine dei risultati dell'eccellenza. Allora, abbiamo tutti. Grazie. Tranne Spoltore Chieti. Tranne Spoltore Chieti sono tutti i definitivi. Sì. Vai, li leggo, li leggo. Allora, tutti i definitivi, tranne Spoltore Chieti, per il campionato... In questo momento è arrivato anche il finale di Spoltore Chieti. Perfetto. Grazie. Grazie a Cristian. Anche il finale di Spoltore Chieti. Allora, questi sono i definitivi della quarta giornata del campionato di eccellenza Abruzzo. Il calcio, cara Pina Ciammariconi, che muove tante passioni, anche l'eccellenza. Allora, acqua e sapone Arezzano 0 a 3. Alba Adriatica, l'Aquila è finita 0 a 0. Bacigalupo, Vasto Marina, Lanciano 0 a 0. Capistrello, San Buceto 3 a 1. Casal Bordino, Renato Curi, Angolana 3 a 2. Nereto, Battecupello 2 a 0. Nero Stellati, Villa 2015 1 a 1. Ponte Vomano, Flacco, Porto Pescara 0 a 1. Spoltore Chieti 2 a 2. Torrese, Penne, addirittura il 7 bello ha calato la Torrese. 7 a 0 la vittoria della Torrese sul Penne. E abbiamo già la classifica aggiornata. Benissimo, grazie. Al comando vedete l'Aquila che ha frenato ad Alba Adriatica e 10 punti. È stata raggiunta dal Flacco, Porto Pescara. E poi Nereto, splendidamente dietro la coppia di testa, a quota 9. Chieti, Avezzano, Capistrello e Cupello 7 punti. Poi a quota 6 abbiamo Casal Bordino, Nerostellati, Alba Adriatica e anche il San Buceto. Poi a quota 5 Renato Curi, Angolana e Lanciano. Torrese, Villa 2015, Acqua e Sapone 4 punti. Spoltore, Penne 2 punti. Bacigalupo, Vasto Marina 1 punto. E Ponte Vomano 0, ancora fermo al palo, il Ponte Vomano all'ultimo posto. Bene, questa è la classifica dell'eccellenza. Allora, eccolo, perché c'è anche la giornata nel campionato di Serie C, Girone C. Teramo-Foggia si giocherà il 18 novembre alle 20.45, così come Avellino vi sceglie. E Monopoli riposa. Le gare finora giocate sono definitivi quelli, i primi due, vero? Ternana-Palermo 0 a 0 e Virtus. Definitivi. Definitivi, grazie. E Virtus-Francavilla-Vibonese è finita 2 a 2. Quindi due pareggi delle gare già giocate. Le altre, lo vedete, inizieranno alle 18.30. Bene, possiamo chiudere qui questa puntata odierna di J-Live. Ringrazio ancora Pina Ciammariconi per essere stata qui con noi. Grazie a presto. Grazie a lei. Anche sulle tematiche che abbiamo affrontato oggi. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione. La prossima alle 19, la seconda edizione del nostro telegiornale. Domattina cominciamo sempre presto, alle 7 con Di Prima Mattina. Grazie, grazie ai ragazzi in regia. Arrivederci. Grazie.